Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo vlog! Ma io mi domando, ma perché me faccio sempre vedere in queste condizioni pietose? Vabbè, comunque, questo vlog è il vlog dell'occhi in ritardo, perché lo state guardando il 9, ma buona festa della donna! Che in realtà non è una cosa che mi ha mai appassionato tanto, nel senso, proprio nella mia vita non è che ho fatto grossi festeggiamenti, forse ho andato più piccola, non so, vabbè, comunque sia. E niente, però, però, stasera in realtà si esce, sì, e sto facendo un vlog perché io non esco mai praticamente, quindi per l'occasione si esce e quindi mi sono lavata i capelli. Ma perché esci stasera, Chiara, se dici di non festeggiare la festa della donna? Perché... molto bene, sembro Pucci. E... beh, guardate Pucci, no, quel cane con i capelli rosa. E niente, stasera usciamo perché finalmente, dopo un altro lockdown solo per la musica, in realtà, Luca stasera suona. Suona in... in un locale, in un ristorante, pizzeria, vabbè, v'ho detto al giglio perché v'ho detto nei video che... E niente, quindi, mi devo asciugare questa cosa che ho in testa, sì, e scopriremo anche di che colore sono diventati questa volta i capelli. Perché ogni volta che io mi lavo i capelli, attenzione, sta rientrando un signor Billy, eccolo. Ogni volta che io mi lavo i capelli, dovete sapere che la prima acqua esce rosa, dici perché? Non lo so. Poi esce blu e dici perché? Non lo so. Poi riesce rosa e poi mi asciugo i capelli e scopriamo di che unicorno sono oggi. Sì, sì, vabbè, quindi niente, mi vado, intanto asciugo i capelli e assistemo la faccia, forse. Sì, perché poi non c'era una certa, devo uscire, so, è sei, è otto, devo prendere l'autobus, quindi vado. Comunque, siamo nel bagno e stavo guardando che c'è un gran casino in questo bagno. Potrei approfittare per fare un bel video motivazionale dei miei, tipo, cosa c'è nel mio bagno. Uso la Tangle Teaser, che è quella che non te tira i capelli. Mi pettino i capelli e poi li asciugo. E poi vediamo di che colore sono diventata stavolta. Beh, che colore sono? Non lo so. Allora, la radice ormai è diventata mia. Quindi si è allevato tutto il viola che c'era ultimamente. Poi qui sono più viola, tipo un po' più lilletti. Poi qui sono blu. Di qua ci sono più sfumature. Tra il viola e l'azzurro. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Va bene uguale. Ma non lo so. Ok? Sono pronta. Più o meno. Devo finire la faccia. E mi sono vestita così. Ho una gonna a fiori. Questo qui che è corto, ma una gonna a vita alta. Quindi a posto. E io direi che mi metto anche il profumo per l'occasione. Cioè non esco mai. Io poi il profumo non mi metto mai. Quindi per l'occasione metto anche il profumo. Basta. Facciamo economia. Che ci pensa già a mio marito a fini profumi. Se dopo stasera non mi sentite più è perché sono morta congelata. Comunque sto aspettando l'autobus per raggiungere Valentina, Michele e altri amici. Dove suona Luca. Però fa freddissimo. Ma non freddo. Freddissimo. Ciao Pips. Ho autografato del seno l'altra volta. Lo sa? Ma la smetti di raccontare sta cosa? Ah sì erano sei tette perché erano tre persone. Ma smettila. Ho autografato del sei seno. Ma vi rendete conto? Ciao. Ciao Copino. Ciao. Bianca Giulia. Vabbè. Ciao Valentino. Ciao. Ciao Valentino. Ciao Valentino. Ciao. 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 Ma ancora? Certo che è un video. Io sono stessata. Ciao Rocco. Smenti di farla YouTube. Ma io nella vita questo faccio. Ma io no. Ma la gente ti ama. Che vuoi? Ti metti in video. A te ti amo. Ciao. A parte. A me. Ciao Cristina. Ciao Cristina. Ciao Cristina. C'è la frangetta spettinata. Meglio. Meglio? Che dite meglio? Più meno. Grazie. Grosse indecisioni per Chiara. Cin cin. Cin. Bianca. Salute. Cin cin. C'è la frangetta spettinata. Scusa comunque. Si è fruttato mio marito. Vorrei farvi vedere il look. Ma lo sai che gli assomigli veramente? Sono una pessima youtuber. Ho già morso la bruschetta. Però c'è questo. E questo. è una roba. Cioè che... Ha scelto la frangetta. La frangetta spettinata. La frangetta spettinata. La frangetta spettinata. Guarda qua. Ho fatto. E ha detto. Sì che siamo noi. Facciamo. E quindi ha vinto. Ha vinto. Giù. Che cos'è? Che cos'è? Questa non è una carfona la sacrilegge. La frangetta. Cos'è? Allora, ora andremo a fare un pezzo a lei, mio. Tuttologo, mi delizia, mi delizia, sovrattutto un po' in legisla, sono tuttologo, tuttologo. La mia data è diplomata, si interessa di politica, sono tuttologo, sono tuttologo. Storia o madre, lingua inglese, storia di grandi e francese, sono tuttologo, tuttologo. L'introscenza che mi fa brillare, che mi differenzia, con mezzo a questo mare, mi non dimenticare il blues, se ci mi suonano i blues. Ah ah! Finvo un messaggio il whatsapp in i людdami all instagram. Siamo tuttologo, tuttologo. Finissà e novi klislav, a fine sanram parcano, richiungo di타loga. Faccio il pane col tutoria, ogni giorno un testimonia Sono un tutt'ora, un tutt'ora, un tutt'ora, un tutt'ora Ecco un libro sulle scale, già mi sento un po' banale Di conoscenza, di far brillare, di differenza E in mezzo a questo mare, di notizie figliose E ci mi suona una croce rosa Una conoscenza, di far brillare, di differenza E in mezzo a questo mare, di notizie figliose E ci mi suona una croce rosa C'è in questo mondo fatto di tussologi Dove ognuno fa un mestiere dell'altro E dove un like è diventato È diventato più importante di un ciao Come stai Se, 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 se Vuoi conoscenza, di far brillare Di differenza, di mezzo a questo mare E in mezzo a questo mare, di notizie figliose E ci mi suona una croce rosa Una conoscenza, di far brillare, di differenza E in mezzo a questo mare, di notizie figliose E ci mi suona una croce rosa Ciao, come stai? Simplico, simbolo, senza bassi Brava Grazie Comprovisato Benissimo Grazie 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 la serata è finita però quello che non sapete è che la serata finisce tutti vanno via e io aspetta lui perché questa baracca chi la smonta quindi cioè io so in macchina al freddo ad aspettare luca che aveva fatto quindi non so cosa sta facendo avevano già smontato tutto era me dovete credere fa veramente freddo ora il coso dice che ci sono due gradi ma è una menzogna ma eccolo è arrivato era ora voglio andare a casa voglio andare a casa adesso andiamo ti prego no vabbè troppo freddo troppo freddo buonanotte non mi sono neanche struccata non fatelo a casa sono lavati i denti ma c'è troppo sonno sono le due e domani mattina alle 6 e 40 mi devo svegliare quindi ci penso domani mattina le sono le due e domani mattina alle 6 e poi ci vediamo al prossimo video ciao lo sta babbi mi sono le due e domani mattina alle 6 e poi ci vediamo al prossimo video